No, non è possibile. Patente e libretto di circolazione, signore. Vaffanculo. Questa è la mia giurisdizione. Il limite è 100, andavi a 105. Fammi vedere il rilevatore. Non serve il rilevatore, basto io. Non dire stronzate. No, ho ascoltato il vento quando sei passato. Diceva 105, fermalo. Prima che lo facciano i tradizionalisti. Sì, voi dell'FBI siete considerati un po' come il vecchio settimo cavalleggeri. Non vi vogliono qui. Nessuno parlerà con voi. Bene. Ad eccezione di Wichasa Wakhan. E io non so perché. Di chi? L'uomo che mi ha mandato a cercarti. Dice che lui ha qualche informazione per l'FBI. E dov'è? Puoi pagare per posta o presentarti alla corte della tribù, se preferisci contestarla. Seguimi. E io non so perché.